Salve! Oggi grande solennità, la Chiesa festeggia tutti i Santi. Per chi crede alla veggente Maria Valtorta, il Signore disse una volta, non tutti i Santi che sono scritti sul calendario siano Santi, e così non tutti quelli che non sono scritti nel calendario non è detto che non lo siano. Resta il fatto che comunque la giornata di oggi tende a festeggiare tutti quelli che sono i Santi, sia in Paradiso, sia sul calendario, sia quelli che il Signore poi ha voluto realmente a sé. La Chiesa oggi ricorda tutte queste persone, ne fa un, tra virgolette, un cumulo, e li mette tutti sullo stesso piano. Oggi è la festa di tutti. Però, a prescindere da tutto, vorrei oggi creare un qualcosa di diverso. Fare due dediche. Una, sicuramente, a quella forma di santità che la Chiesa non riconosce, ovvero quella seconda parte che Gesù diceva alla Valtorta. Attenzione, che comunque non è detto appunto che, perché non siano nel calendario del martireologio romano, o in altri martireologi, che queste persone non esistono. E una è proprio questa figura che vorrei mettere alla vostra attenzione, la beata Contessa Tagliapietra. Una donna nobile, una ragazza, una giovane nobile, veneziana, nata nel 1288 e morta nel 1308, quindi a vent'anni. Di lei si è creata una leggenda nel veneziano, perché era una persona che aveva sin da subito delle spiccate dotti mistiche. Quindi lei, già da piccola, consacra la sua verginità a Dio e vive di preghiera e penitenza. Frequentava la chiesa di San Maurizio, oltre il Canal Grande. La sua vita era tutta incentrata sulla messa, sulla preghiera e sulla penitenza. Quando diventa un po' adulta, chiede sui genitori che possa entrare in convento, che gli diano questo permesso. I genitori, naturalmente essendo personaggiate, non volevano che lei vestisse l'apido della consacrazione, ma bensì si sposasse magari con qualche nobile. Cosa succede? Lei, naturalmente, non vuole e loro, per fare in modo di dissuaderla, iniziano a vietare la messa. Quindi che cosa succede? Lei, per andare alla messa, doveva attraversare il Canal Grande, ma per attraversarlo aveva bisogno dei gondolieri. Succede questo, che siccome i genitori erano molto potenti, fanno in modo che nessun gondoliere dia il passaggio a sua figlia per poter arrivare alla chiesa di San Maurizio, che, appunto, poteva essere accessibile solo attraversando il Canal Grande. Ma, siccome questa ragazza che vive di preghiera, di penitenza, si è consacrata la sua verginità, sicuramente il Signore non le fa mancare i doni mistici. E allora riesce a attraversare in maniera del tutto miracolosa il Canal Grande e va messa lo stesso. Arriva a vent'anni e si ammala gravemente. Poi morirà e il suo culto rimane nella, tra virgolette, leggenda di Venezia e limitrofi. Il suo culto si propagherà addirittura. Le madri porteranno a fare una specie di pellegrinaggio sulla tomba di questa giovane, anche portando i propri figli come simbolo di protezione da quelli che potevano essere gli annegamenti o qualche cosa che riguardasse anche il solo Canal Grande. Quindi la Chiesa, che in qualche maniera la rende beata, non accetterà mai il culto. Ci saranno delle varie opposizioni e anche il Papa si opporrà a questo. Quindi la Chiesa, in questo caso, vuole vederci chiaro, vuole in qualche maniera preservare quello che è un puro atto di presunta idolatria su una leggenda e non verificare ulteriormente quelle che sono state le condizioni di una ragazza mistica che ha vissuto quello che erano i comuni precetti, cioè quindi vivere di penitenza, vivere di preghiera e consacrare la propria verginità laddove non vi è nessuna spinta al matrimonio. Detto questo, appunto, ho voluto dedicare qualche minuto a questa figura perché oggi penso che sia giusto tributare la festa anche a lei o forse soprattutto a lei che vive di quel riflesso negativo che molte volte la porta della Chiesa non apre. Quindi buona festa anche a te, carissima Beata Contessa Tagliapietra e ricordati che se la Chiesa non ti fa menzione o non si ricorda di te, qualcuno qui invece sicuramente ti ha nel cuore. La seconda dedica che vorrei fare è legata ad un fatto che è successo in questi giorni, tenete presente che questo video viene creato il 31 di ottobre del 2020 ed in questi giorni è successo un fatto un po' particolare, un attentato terroristico alla Chiesa di Notre Dame. Tre persone sono rimaste uccise, una mamma di 44 anni con tre figli, un uomo, praticamente era il custode di Notre Dame di 54 anni ed una signora di 60 anni morta vicino all'acqua santiera. Tre persone che sicuramente muoiono in odio alla fede, magari non proprio come martiri, perché poi ben sappiamo che il martirio è un qualche cosa in cui uno accetta, uno vive in una condizione particolare, di un luogo particolare, come vivono quelli sotto la repressione di Boko Haram. Ecco, la Francia non è un paese in cui vi è una lotta di religione, non vi sono delle lotte che creano tensioni a livello religioso, è sicuramente un attentato terroristico, è sicuramente un qualcosa in cui un singolo personaggio o più singoli personaggi hanno a che fare con il terrorismo, tentano di sopprimere quello che può essere la fede, ma come abbiamo ben visto, quando è successo al Bataclan, non è che stavano a guardare se fossero cristiani o no. Sicuramente in questo caso però si è voluto colpire qualcosa di cristiano, quindi sicuramente morti in odio alla fede. Poi che, come dicevo appunto, prendere in considerazione il martirio, secondo me è una cosa da prendere un po' con le molle. Quello che volevo dire è che probabilmente non è detto che la Chiesa li faccia santi, queste tre persone, perché probabilmente ci vuole anche un iter, come ben sappiamo, in cui il miracolo deve scattare, potranno sicuramente essere dei beati. Però a noi fa piacere ricordarli come dei santi dei nostri tempi, che solo per essere stati vicino a Gesù hanno pagato con la loro vita. Ecco, magari, come dire, si sono trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, ed è successo questo. Essere in Chiesa non è mai un posto sbagliato, e i momenti sbagliati siamo solamente noi a crearli. Dio invece ci dà tutta la possibilità di poter essere sia vicino a Lui, con Lui. Probabilmente in questo caso il Signore ha voluto chiamare loro, perché in qualche maniera, penso, abbiano compiuto forse quello che il Signore gli ha chiesto di fare. Rimane l'amarezza che i tre bambini rimangono senza la loro mamma, ma rimane il fatto che a noi tocca, a noi tutti, pregare, perché queste tre vite possano veramente avere la vicinanza di Dio, se non quella del mondo intero. Ecco, ricordiamoci sempre che oggi noi possiamo dare questa cittadinanza di Santi anche a queste tre persone, che in qualche maniera hanno vissuto per Dio e con Dio. Quindi, Santa Festa anche a voi tre, cari, tra virgolette, diciamo, martiri francesi, neo-martiri francesi, che veramente la Santità del Cielo possa darvi tutto quello che la vita vi ha tolto. Grazie a tutti.